Ciao a tutti, mi chiamo Luca Gardini alias The Wine Killer, sono il testimone del brand ambassador di vino.com, dopo le novità delle scorse settimane delle ricerche del Gardo, avremo un'altra novità per le prossime settimane di Academy di vino.com by Luca Gardini. Con quale approccio affronteremo le nostre Wine Academy? Sarà con il codice di Gardo, un approccio moderno, rivoluzionario, la sua filosofia è quella di dire ognuno di voi ha il proprio palazzo e va rispettato. All'interno di cui troverete gli aspetti di gustativo, olfattivo, le punti chiave di una degustazione secondo il mio motivo. Sarà la Academy dove vi spiegheremo l'approccio all'illustrazione, ai vittimi, alle aree niccole, un approccio snello, divertente e pop per apprestare meglio il vino e le sue sfumature, una carne moderna e divertente. A presto per la Academy, cin cin!